Siamo qui con la nostra gamma e in particolare con l'ultima arrivata, i D4 GTX, l'ultimo modello della nuova famiglia di veicoli completamente elettrici della famiglia MB, quindi veicoli nati appositamente da una piattaforma studiata per veicoli elettrici. Riteniamo che sia un'ottima rappresentante della nostra interpretazione del business flotte e del futuro, in quanto si tratta di una vettura ad alte prestazioni, quindi che incarna anche lo spirito GT, che in questo caso è anche rappresentato da un altro modello che abbiamo portato all'evento, che è il GovGT, con 40 anni di storia. Nello specifico riteniamo che rappresenti anche la volontà del brand di andare verso una flotta sempre più sostenibile dal punto di vista sia ecologico ma anche economico, perché le vetture elettriche sono già oggi una realtà e possono essere una scelta anche economicamente molto conveniente. Nello specifico riteniamo che questo tipo di scelta poi deve essere accompagnata ovviamente da un'attività di consulenza che rappresenta poi il secondo asset fondamentale del nostro reparto flotte qui in Italia.